Prosegue il progetto umanitario del comune di Capaccio Pestum insieme alle associazioni del territorio e dell'esercito italiano per aiutare le popolazioni libanese nell'ambito della missione ONU in Libano. L'organizzazione dell'evento Cena della Nonna in corso al Capaccio Scalo consegnerà domani sera ai militari dell'esercito italiano il materiale didattico acquistato con una parte del ricavato dalla manifestazione. Tale attività proseguirà a settembre con la riapertura delle scuole, allorquando tutti gli istituti scolastici saranno coinvolti nella raccolta di materiale didattico per i bambini libanesi. Già nei giorni scorsi inoltre l'amministrazione Palumbo insieme all'associazione del territorio ha consegnato all'esercito italiano i primi scatoloni contenenti indumenti e altro materiale da destinare alla popolazione libanese.